bello a tutti ragazzi rietroci tornati in un nuovo video oggi aprirò questo facciamo la sua reazione ci proviamo dai apriamo scusatemi la telecamera non è messa bene ma lo faccio con una mano adesso è morbidissimo guardatelo allora proviamo è molto slow rising proviamo si ci mette poco però va bene con antistress ci sta li vengono tutte le solite venine da pastrocchiare così è perfetto se li volete comprare anche voi costano 6 euro e 99 in edicola vanno a ruba lo so non hanno nessuna profumazione molto strano della skifidol e sono questi gli skifidol kawaii squishy come ho già detto li comprate in edicola niente vabbè questa era una reazione a uno magari la facciamo anche ad altri e facciamo il paragone con questo ciao ci vediamo in un prossimo video